Temptation Island Wow, alto livello oggi Perché non funziona Temptation Island? Se tu hai una crisi di coppia la prima cosa che devi fare è parlare Se tu sei, ti fidi del tuo compagno lo lasci anche 20 giorni, 3 settimane Se le persone ti feriscono due volte la prima volta puoi anche aver sbagliato la seconda vuol dire che ti piace La coppia è tenersi per mano finché tieni stretta la mano di una donna e viceversa di un uomo e queste mani sono giunte non c'è verso di lasciarle andare però devi tenerle e tenerle è dura perché la vita ti porta magari troppo avanti troppo indietro sono interessata a te non lo vedi quanto ti evito grazie io voglio chiudere così dopo questa ragazzi abbiamo finito un brindisi un brindisi è stato bellissimo Maurizio Romano il gentleman seduttore colui che aiuta gli uomini a trovare la donna dei loro sogni non avrai bisogno di trovare le parole giuste sarà lei a venire da te ciao a tutti e benvenuti al nostro podcast quello che le donne non dicono o dicono o dicono solo qui temptation island wow ok alto livello oggi altissimo adoro massimi sistemi adoro massimi sistemi del mondo questo questo programma correggetemi se dico eresie si basa sul fatto di portare delle coppie in un'isola in un'isola vabbè in un posto di mare separarle e separare donne e uomini e mettere dagli uomini delle super modelle super fighe tentate mezze apputtanate che servono per tentare e dall'altra parte bronzi di riace tutti unti e tatuati unti come delle cotelette e tatuati come un album a disegno per tentare ci sento della critica in queste parole diciamo che non è proprio il massimo dell'eleganza quindi le coppie vengono messe in questo in questo in isola di mare no in questa diciamo bolla in questa bolla chiusa le donne vengono messe vengono tentate da questi uomini fighi e le le femmine vengono cioè gli uomini vengono tentati da queste femminazze tutte prorompenti prorompenti le tentatrici le tentatrici ora questo questo programma ha lo scopo di verificare la la solidità la solidità della coppia ecco vi spiego perché è una cazzata l'hai già deciso tu no è così perché io non sai che io ma beh è fondamentalmente un programma televisivo in varietà io non ho opinioni ma spieghiamo io non ho opinioni io ho la verità la verità in mano di Maurizio Romano perché non funziona Temptation Island perché quando un uomo o una donna vengono esposti a una bellissima donna o un bellissimo uomo reciprocamente non stanno misurando la solidità della coppia stanno semplicemente misurando il loro il loro gradiente di controllo sui propri istinti che cosa significa significa che non valuti la la solidità di una coppia ma valuti quanto un uomo e una donna riescono a dominare i propri istinti sessuali ci sono le belle ragazze ma c'è anche qualcuna che invece li prende a livello mentale loro passano 24 ore su 24 a parlare non si è mai visto a parlare casualmente sono tutti i figoni in termo nucleare aspetta Temptation non si è mai vista una coppia cioè comunque uomo fidanzato contentatrice che fanno cose strane no non è non è sessuale secondo me perché no perché non posso perché non posso ok ma allora scusate io ne ho visti no 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 dentro le stanze non c'è la telecamera e si sono chiusi nelle stanze però la redazione spinge più per un'intesa in realtà preferiscono che anziché chiudersi nelle stanze e fare cose strane preferiscono che loro parlino dei loro problemi ti do questa notizia perché di là c'è la fidanzata che li guarda appunto ti do questa notizia se non c'era le tentatrici voglio vedere le tentatrici non sono dei dei cassonetti dell'immondizia di 120 chili perché ti posso garantire che sono almeno da quello che ho visto non sono proprio delle brutte ragazze sono ragazze molto avvenenti molto procaci che stanno casualmente casualmente tutto il giorno in abiti su cintier e costumi però vengono scelte anche su basi caratteriali e veramente tui abbiamo fatto tutti i casi il fine è lo stesso cioè il fine è capire se loro tradirebbero o no la propria compagna questo è il fine poiché sia una roba mentale che nasce più alla donna cioè la donna secondo me è far venire fuori però casualmente gli uomini sono tutti figli anche lì appunto secondo me quel programma però la donna si prende più mentalmente quindi è più quello che dice lei invece l'uomo ti parla ma in realtà vorrebbe fare altro perché è più istinto si focalizza solo su una su venti prima le tutte poi si focalizzano su una perché ovvio ci deve essere un'idea perché gli deve piacere di più perché a lui piace quella l'intento del programma è far venire fuori quali sono le problematiche della coppia cioè la dinamica qual è che il fidanzato inizia a un certo punto a diventare amico con una delle tentatrici inizia a parlare ovviamente di cosa vuoi parlare siamo lì per questo motivo perché sei venuto a Tentation Island di parlare i problemi della coppia loro cosa fanno poi? prendono i video li mandano a lei che ovviamente di reazione in quel momento non può parlare con lui quindi si creano delle dinamiche di litigio tra la coppia quello è l'intento del programma però a volte neanche parlano dei loro problemi ma parlano solo di conoscere la tua ragazza e basta quest'anno sta succedendo questo guarda quest'anno non l'ho visto ma l'anno scorso mi ricordo che lo stesso Mirko parlava appunto e l'errore che aveva fatto Perle del motivo perché qui si sono anche lasciati lei invece parlava male di lui cioè anziché parlare dei problemi è per quello perché si è chiusa in camera con un altro no no perché lei ho visto qualche no 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 perché lei parlava male di lui cioè lei mentre lui magari parlava dei problemi che aveva con lei con Perla Perla diceva direttamente ah ma lui ha fatto questo si è egoista e lo giudicava molto e lui quando poi ha visto le cose ma ragazzi il problema quello che perché abbiamo fatto uscire cioè ho scelto questo argomento perché di fatto se tu hai una crisi di coppia la prima cosa che devi fare è parlare è confrontare e loro dividono le coppie e beh loro devono creare lo show no io ho creato questo questo tema più che altro per parlare di questo problema no quale perché uno deve andare a provare a misurarsi con altre donne o viceversa con altri uomini per verificare se è innamorato di una donna o di un uomo no vabbè ma lì è business è un altro lavoro sì 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 no ma io ho usato questo gancio per entrare in questo argomento no cioè quando sei in crisi perché andare a provare a conoscere altre persone perché io vedo questo ma no no ma non è detto che le coppie sono in crisi ma lì vanno coppie anche che non sono in crisi mica vanno coppie in crisi no no per no no non vanno coppie in crisi anzi vanno magari coppie solide che dicono vanno coppie solide qualcuno addirittura non le abbiamo mai avuto problemi volevano proprio sposarsi c'erano solo una prova per noi e poi succedeva di tutto secondo me il problema sai cos'è è che se tu vuoi il problema nella coppia lo trovi sempre quindi tu arrivi lì vedi un figo o vedi una figa e casualmente arriva a coppia secondo me chi va lì non sono realmente innamorati io sono una coppia ho visto realmente innamorata ma infatti secondo me è una coppia innamorata infatti sono durati tre giorni lui è preso e si è andata a riprendere e con me ciao quello è amore perché se tu infatti non metti in pericolo la tua relazione magari qualcuno lo fa per soldi anche se va bene la relazione no io non metto in discussione se sono innamorata per soldi no se sei innamorata che te ne frega no no non metti in pericolo per soldi magari per la tua coppia per soldi comunque torniamo un attimo perché se tu ti fidi del tuo compagno lo lasci anche venti giorni tre settimane lascialo anche tre quattro mesi io ragazzi mi giuro primavera io ragazzi mi giuro che lo farei io preferirei vedere se lui si mette a fare il cretino tra l'altro con delle sconosciute ma te la vai a cercare così comunque seguitemi un attimo seguitemi seguitemi allora il discorso è parliamo di crisi ok così ritorniamo sul topic parliamo di crisi quando uno non è quando una coppia è in crisi avete notato come le dinamiche cambiano soprattutto succede quando la la crisi subentra dopo tanti anni di relazione io mi accorgo che una coppia sta finendo quando vedo che lei comincia a postare foto un po' birichine e non l'ha mai fatto e quando lui comincia a uscire e a dimagrire e a mettersi in tiro questo e poi li vedi spesso divisi nelle serate che non vuol dire che uno non possa uscire insieme però vedi uno che va a fare la vacanza da solo un altro che che senso ha esatto però te ne accorgi molto prima perché sui social ovviamente perché la coppia si mette alla prova uscendo conoscendo nuove persone per verificare se ha ancora sentimenti allora è un po' tentation island è la vita allora è reale come programma se vuoi tentation island è la realtà perché tanto chiunque apre Instagram può messaggiare però lì è molto più semplice però la differenza è che andate a ballare vai in Sardegna e ti pagano sei tu che vai a cercare sì ma cosa ne pensate di questa cosa che le coppie fanno cioè invece di metterti lì guardare la persona che hai di fronte dire vabbè ma la maturità emotiva non è che ce l'hanno tutti però cioè la gente poi perché piantano le corna perché cominciano a uscire non sei in connessione emotiva con la tua nonna ma nella vita quello che fai poi ti torna indietro quindi è un problema di chi lo fa sì ma noi siamo qua proprio per dire loro questa cosa cioè per far capire beh ma sicuramente devi chiudere prima esatto Maurizio se una persona arriva qui a vedere i tuoi video è perché si vuole già mettere in gioco e crescere emotivamente vero non sarebbe qui sotto a commentare commentate bravissimi però sai cos'è io vedo che tanti ragazzi che ci seguono magari la prima volta che vedono un nostro video dicono sti qua sono pazzi soprattutto quello col cappello quello col cappello è pazzo totale e metti il cappello che sei al chiuso sì e sono pelato ragazzi e mi vergogno della mia no assolutamente no io amo la mia pelata sarei potuta andare tranquillamente in Turchia ma scelgo di essere pelato perché lo adoro perché così mi posso mettere i cappelli con più comodità e perché adoro i capelli ecco diglielo diglielo certo i capelli fanno figo ok comunque tornando a noi vorrei capire cosa pensate voi di queste dinamiche no che dopo qualche prima parlavamo nei precedenti podcast del del fatto che poi dopo l'innamoramento dopo i primi momenti le persone tendono un po' ad adagiarsi a non investire più nella coppia e poi quando le cose quando le persone si separano emotivamente che sono già nella coppia ma non sono più così coinvolte cominciano ad avere due vite parallele cosa ne pensate voi di questa cosa? nel mio ideale di rapporto non ci si lascia ma anche se magari c'è una crisi si attraversa insieme mano nella mano nel momento in cui arrivano queste dinamiche perché la coppia è già per me scoppiata quindi dici che è irrecuperabile? non mi piace come metodo perché la vita già è difficile se ci sposiamo sicuramente ci saranno delle difficoltà ancora più grandi cioè avremo dei figli avremo ancora più difficoltà e bisogna arrivare a superare quelle difficoltà senza separarsi fisicamente dimmi di più che mi piace è che praticamente se stai attraversando una crisi sì va bene parlarne va bene cercare di venirsi incontro ma non separarsi andare uno a destra uno a sinistra uno fa le sue cose l'altro fa le sue cose questa è una cosa che vedo spesso in giro e nel mio ideale di rapporto invece bisogna comunque rimanere uniti anche quando passa la tempesta perché sennò è troppo facile poi passa la tempesta ci rivediamo no ma se si dividono la tempesta io dico sempre mano nella mano sotto la pioggia la simbiosi non troppo vabbè però mano nella mano mi piace dire ho fatto questo esempio in un reel tu? tuo? quando ero ultimamente e ho fatto un bellissimo esempio del fatto che la coppia è tenersi per mano ah io dico sempre questa cosa qui mi piace un sacco la coppia è tenersi per mano e nella vita poi non ce l'ha Samantha non ce l'ha no è tenersi per mano no e quando tu sei per mano una persona tu puoi andare un po' più veloce guardarti intorno un po' più lento però se queste mani sono salde non puoi lasciarti quello dico io quella roba lì quella lì è la roba mia è molto romantica come cosa però è proprio questa cioè finché tieni stretta la mano di una di una donna e viceversa di un uomo e queste mani sono giunte non c'è verso di lasciarle andare però devi tenerle e tenerle è dura perché la vita ti porta magari troppo avanti troppo indietro ti fa rallentare e non si va quasi mai la stessa velocità secondo me se si dialoga si riesce a superare qualsiasi cosa invece molti si chiudono cosa intendi per dialogare Samy? se c'è un problema io te ne devo parlare se io non te ne parlo sto male dentro automaticamente mi comporto male con te tu non capisci perché perché se non te ne parlo sai cosa non è che sei un mago a volte anche la comunicazione esatto io ho visto una cosa ieri parlavo con una coppia molto dolce molto carina però due ragazzi che avevano davvero tanti problemi a livello comunicativo no? e vedevo che lei urlava lo aggrediva quindi non sa comunicare più che altro era stanca di lui che non comunicava mai ed era un muro di gomma cioè più lei parlava più lui non la cagava classico e lei gli diceva una cosa lui invece di ascoltare quello che era il suo dolore il suo problema il suo non il problema in sé a livello pratico il suo l'empatia il problema emotivo lui rispondeva altro o si offendeva certo e questa roba ieri abbiamo fatto un dispiacere infatti poi abbiamo fatto una bellissima coaching e sono riuscito a a fargli trovare ah sei riuscito sì sì perché gli ho fatto gli ho fatti tenere per mano vedi vedi che lo dico sempre tenetevi per mano mentre parlate tenetevi per mano e cercate di ricordarvi di mettere io ho fatto fare un esercizio bellissimo che mi sono inventato sul momento io ho detto immaginatevi che cosa vi ha fatto innamorare quali sono gli sentimenti che provate immaginateli e provate a trasportarli nella mano che tiene la mano dell'altro vabbè dell'altro e teneteli lì e ricordatevi che ogni volta che le cose si fanno difficili che siete arrabbiati che avete un momento difficile tenetevi la mano e ricordatevi che in quella mano c'è tutto il vostro amore è molto romantica come visione però cazzarola però è vero ecco perché c'è la mano lì tutto l'hashtag la mano questa puntata hanno cambiato l'atteggiamento da così a così ma perché basta ricordarsi quello infatti io dico sempre non è che nella in una coppia non possono esserci problemi a volte la comunicazione è troppo importante uno si arrabbia l'altro è e magari anche quella va via ma se tu riesci a tenerti la mano nonostante tutto la coppia rimane devi mettere da parte la rabbia un attimino pensare e dire cavolo devi mettere da parte la rabbia perché sennò non comunichi ti arrabbi anche quando ti arrabbi puoi comunque continuare a tenere la mano al tuo compagno bella ma devi mettertela se no non gliela dai la mano se sei incazzata ne erano metaforicamente anche quando tu ti arrabbi con il tuo compagno magari lo fai arrabbiare e lui ti toglie la mano invece no è proprio lì tu la devi andare a riprendere orgoglio devi ma l'orgoglio non è amore non è mai amore ma secondo me non è neanche orgoglio per amore l'orgoglio lo superi sempre io l'ho fatto tante volte è questo tanto difficile devi essere maturo però è così devi farlo è un mix tra il sentimento che ti lega e il riuscire veramente a capire che in quel momento magari ripeto chi me ne frega del resto io voglio lui la cosa più facile è aprire la porta come abbiamo detto uno va di là uno va di là no no ma molti coppie sai cosa fanno uno va appunto a ballare di qua l'altra se ne va dall'amica smettono di comunicare e poi quando gli è passata quella rabbia lì non c'è più rapporto no 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 si smettono lì si risentono e si riparlano però il rapporto è già finito per me perché comunque tu devi attraversare quel problema lì mano nella mano insieme infatti no è troppo facile è proprio quando il rapporto è in crisi che devi tenere la mano più stretta e vedi la forza del rapporto in quello però se tu comunque provi a tenere la mano e vedi veramente un muro bisogna essere in due ragazzi la mano bisogna tenere in due esatto c'è chi si ama ma per l'orgoglio magari lui dice no non la tieni a uno che la mano molla ti faccio un esempio bravo 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 tu immagina uno che non mette forza nel tenerti la mano tu puoi tirarlo dopo un po' ti è mai capitato adesso mi è venuta questa immagine con i figli quando sei arrabbiato li tieni loro ti mollano la mano perché non vogliono infatti li prendi da qui esatto e poi li picchi no non era quella no però da dove li prendi dal braccio dal braccio dall'avambraccio però è vero quando i bambini fanno un muro no e non si vogliono far prendere mollano la mano anche che tu la tieni stretta la perdi ti scivola la perdi che l'hai di no no però è così facci caso io amo i bambini io li amo sono geniali anche loro perché loro dicono la mano non te la do non te la do e questo è l'esempio e quello è bravo quella lì per me è l'esempio di volontà da entrambe le parti la mano bellissimo dopo questa ragazzi abbiamo finito un brindisi è stato bellissimo no comunque il discorso è proprio questo stare in coppia ragazzi soprattutto al giorno d'oggi è tenersi per mano e proteggere la coppia da tutto coppia lo dice ancora la stessa ed è per questo che io dico la simbiosi cosa vuol dire che non vuol dire che tu devi completamente tagliare ogni riferimento all'esterno ogni isolarti dal mondo non avere più amici eccetera eccetera però sicuramente gran parte della tua vita del tuo tempo libero lo devi passare con la persona che ami perché se tu hai bisogno di così tanti esatto se tu hai così tanto bisogno di spazio se tu hai così tanto bisogno di essere solo di avere i tuoi spazi vuol dire che quella persona non è la tua persona perché se è la tua persona tu hai voglia di passare del tempo con lui o con lei automatico ti basta quella persona esatto automatico se cerchi altro è perché non è lui o lei infatti il discorso che facevamo prima allora le coppie che vanno in un programma chi ha l'arem oltre la compagna eh dici questa cosa che ci sono coppie che ci sono delle coppie che praticamente lei cornificata continuamente quindi lui ha tutta una serie di amanti ma lei lo sa eh lei praticamente lo sospetta non ha mai prove ma lei chi? no no lei chi? no allora poi vediamo un codice fiscale che sono dieci anni che vanno avanti così che io dico però se lei lo sa perché ci stai ancora però ragazzi quelli lì secondo me lei lo sa e ti va bene così e stai già bene e se non ti va bene lei soffre se non ti va bene te ne vai se ti fanno le corna resti la colpa è anche tua no 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 non è anche è tua è tua se tu la prima volta è colpa di lui la seconda volta è colpa tua una bellissima frase di un grande formatore che si occupa di comunicazione no 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 Paolo Borzacchiello il primo non sbaglio la seconda dice se le persone ti feriscono due volte la prima volta puoi anche aver sbagliato la seconda vuol dire che ti piace la sapevo in modo diverso però il senso perché devi uscire da questa cosa perché tanto è difficile perché uno ragiona sempre ma io non voglio perderla ma tu l'hai già perso nel momento in cui ti ha fatto ricorre la prima volta anche perché tradire una persona cioè ragazzi parliamo da questo nei precedenti podcast parlavamo di amore no di non ti ama se uno tradisce una donna un uomo e viceversa nel momento in cui lo fa sa che causerà un dolore gigantesco all'altra persona ma molti non lo capiscono finché non vengono scoperti chissà come poi mi dispiace ma non volevo ma io se tu ami non vorresti mai se tu ami non puoi puoi anche essere super attratto da una donna in maniera devastante a livello sessuale io parlo da uomo però non lo faresti mai perché e non ti metti neanche nella condizione perché non vuoi neanche rischiare che i tuoi istinti però sai qual è il fatto che un conto che ci sono coppie dove l'accompagno o il compagno adesso non facciamo sì sì non c'è genere qua il compagno o la compagna non lo sanno ma ci sono io quelli che vedo dieci coppie come dice lei dieci anni che stanno insieme non è possibile che tu non lo sappia lo sanno tutti lo sanno lei lo sa però e se lo fa andare bene non se lo fa andare bene soffre ha avuto problemi psicologici importanti lui nega certo che ha i problemi solo che lui nega anche davanti l'evidenza lei non ha le prove tangibili quindi lei non si non sa su cosa aggrapparsi e lui comunque dice no ti amo voglio stare con te ti amo voglio stare con te e lei rimane dentro questa bolla come fa non avere prove tangibili perché sono tutte cose che gli vengono a dire ma poi e lui dice no non è vero io il consiglio più dato è metti il detective certo ma il discorso qual è ci sta se sei così a quel livello però il discorso è con le foto davanti allora lì non puoi più dire no che non è vero però se tutti ti dicono una cosa è solo che perché lei non è in grado mentalmente perché dice almeno se lo vedi allora a quel punto puoi abbandonare gli dico un uomo del genere perché non fa il singolo e basta anziché prendere in giro e far soffrire una persona da dieci anni tra l'altro perché sei una merda perché l'indole l'uomo vuole la donna a casa fissa e poi e ma ti ne prendi una figa tanto fissa e la tratti da regina e fidati che ce l'hai eh lo so ma molti eh non gli basta vogliono l'uovo e la gallina secondo me è perché non sono innamorati esatto appunto allora cosa sta a dieci anni che una persona sono innamorati perché sei un fallito pensi che sia amore magari no non puoi ma ragazzi ma non puoi tradire se ami non puoi tradire è la regola non è una regola è una cosa automata è la regola ragazzi di qualsiasi rapporto c'è anche un amico non puoi tradirlo se gli vuoi bene brava esatto c'è qualsiasi rapporto un fratello per me è una questione di valori che sono dei valori che o ce li hai o non ce li hai quindi tu non tradisci negli amici nel tuo compagno se per te la fedeltà è un valore ma una persona che non ha il valore della fedeltà e della lealtà ma che persona è che persona è che persona è poi vedi a volte si dice se uno tradisce tradirà sempre no no la stessa persona dico secondo me anche anche io pensavo questo è pure è successo secondo me anche questa persona qui con tutte le relazioni le ha sempre tradite poi siamo messi insieme a una ragazza e con lei non l'ha mai fatto come vi ho raccontato come vi ho raccontato il video virale non l'ha mai tradita e uno dice perché magari è cresciuto ha fatto lo step no poi si è lasciato con questa e la sta con un'altra e questa di nuovo la tradisce solo quella là era santificata magari era innamorato veramente di quella ragazza lì ma bisognerebbe chiederla a lui non lo so bisogna vedere anche quanto tempo perché se le fedeli qualche mese non vale 4 anni no 4 anni va bene vabbè 4 anni non dico chi è perché sono io ma non che io tradivo dico l'uomo 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 no era il mio era il tuo ok e non ti ha tradito no cicre no 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 infatti lei no tutte lei no no l'avrei saputo eh cosa c'è la la mafia cinese ma lui lo diceva tranquillamente la mafia ma lui lo diceva tranquillamente quando poi si lasciavano proprio per farti del male te lo spiattellava come ha fatto con tutte vabbè si vede che comunque a te non ho voluto fare del male gli avrei dato qualcosa di bello no dai no guardate no gli avrei dato noi donne abbiamo un problema grandissimo sai qual è Mauri quale che noi pensiamo sempre tutti ma no con noi no 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 eh ma tutti lo pensano anch'io sono stato con delle donne che non erano propriamente Santa Maria Goretti però con te erano delle sante sembra eh sembra sembra un mignottone pazzo ma no con tutti ma con me no con me è diverso ma no non perché sono io figurati cioè no no comunque se allora mettendo il caso che sia come dici giustamente si vede che tu hai dato a lui quello che gli mancava quello che gli mancava davvero quindi non aveva bisogno di andare in giro perché si vede che ti sei impegnata anche tu nella relazione tantissima non impegnata gli dava quello che nelle altre non riusciva a trovare non so io non ci crederei moltissimo cioè nel senso ma neanche io ci ho detto ma la cioè dei miei ex chiamiamolo dei miei ex che io metto la mano sul fuoco non mi ha mai tradita erano quelli che sono comunque persone fedeli cioè che mi raccontavano che le relazioni prima di me erano proprio fedeli per loro ce l'hanno come valore sì io di quelli ci metto la mano sul fuoco lo vedevo proprio nel comportamento lo vedi quando uno è fedeli lo senti lo senti io sono sicura di questa ecco questa te la voglio condividere una sensazione mi è capitato quasi mai pochissime volte nella vita di sentirmi sereno sul tradimento perché per me è un valore importante e ho sempre avuto dei target un po' un po' procaci e poche pochissime volte una mi è capitato di non avere questa sensazione qui e infatti il valore della fedeltà era molto alto comunque dicevamo di Tentation Island quindi secondo me quelle coppie che vanno lì è perché già la mano non ce l'hanno più unita capito ormai sono già coppie ma tu andresti a flirtare con un altro sapendo che il tuo tesoro io sono attrice riesco a flirtare per finta quindi no 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 ma no dico proprio ponendo caso che non fai l'attrice eccetera ma proprio andare se tu sei in una coppia vera e vai a questo programma seriamente ok non per soldi non per finta per misurare la tua coppia se vedo qualcuno con cui nasce la connessione no dico veder cioè andare lì e flirtare con altri uomini sapendo che il tuo compagno ma perché ma tu l'hai mai visto questo programma poi mi sa che non è che flirtano così no oltre parlo io vi so pure scene no vabbè ma chi ha cioè molte fanno si vede che fanno finta comunque è troppo perché a me viene con una tristezza il costume da bagno la carezza la carezza la brava io ti vedo ti stacco la testa la cosa più brutta è vedere il tuo compagno che gli dice sei bellissima cioè ma che cazzo fai ma davvero ma davvero non anche solo flirtano proprio dice sei bellissima gli fa proprio apprezzamenti lì sei proprio ma tu pensi che è un uomo fidanzato adesso Mauri mi uccide il tuo cioè il fidanzato non fa mai apprezzamenti a un'altra donna un uomo di valore ma così che li stai dietro tutto il tempo e ci sei bellissima ma se io esco da qua tu mi segui cioè tu ti stai già creando un dopo quindi te non te ne frega niente ma lì secondo me gli diranno di farlo non è reale quello quello è too much dai infatti Mirko e Greta sono stati insieme sei mesi infatti Mirko e Greta sono stati insieme sei mesi e perché lui aveva visto delle cose di lei che era arrabbiato no perché lui era sicuro che Greta fuori c'era per lui se no lui col cavolo che lo faceva no secondo me beh si tengono piano B comunque anche questo qua vedi gli fa ma se usciamo di qua ma tu vieni con me cioè vuole la sicurezza perché se no capito non ha più la ruota di scorta capito non ce la possiamo fare e come fai c'hai la tua ragazza di là ma io non ci andrei proprio cioè vuoi fare la battuta ridere scherzare ballarci ma proprio così perché se no non vai lì non vai lì secondo me io non andrei in un conforto ma con qualsiasi parte mandano in onda tutto non esiste anche secondo me cioè dicono però parliamo in dodici scusa no mi sono perso no però è vero cioè non possono cioè non è possibile andare in un programma così se hai dei valori cioè se hai i valori della coppia e del rispetto voi non abbiamo mai capitato con il vostro compagno giocando dire ma tu ci andresti mai a questo programma io con il mio ex l'avevamo detto io gli ho detto io non ci andrei mai con te perché io avrei paura cioè mettere in gioco la nostra relazione no no stiamo a casa ce lo prendiamo da casa però come tentatrice beh se sono single come tentatrice ci vado che me ne frega però col mio ragazzo mai guai no io anche non esiste non lo farei mai non esiste perché per me la fedeltà è un valore quindi mi metto in pasto a meno che di lui non mi interessa più di tanto io sapete come è la mia idea della fedeltà è come mettersi in pasto agli squali sai come è la mia idea di fedeltà io ti butto tra gli squali e tu devi stare fermo no e tu devi saperti comportare cioè devi saper gestire gli squali senza tradirmi se poi gli squali ti mangiano e vabbè è andata come quelle frasi su facebook delle milf mi hanno buttato in mezzo a un branco di lupi e ne sono uscita e ne sono uscita allupata sì questo è il momento poesia sarebbe bellissimo però è più una favola quella perché purtroppo secondo me anche qualsiasi cosa secondo me poco cambia chi è il ragazzo nel senso sarebbe l'uomo perfetto quello secondo me poco cambia il ragazzo che va a ballare tutte le sere da solo è quello infatti non ci devi andare non vedo nessuna differenza anzi è peggio quello che va a ballare tutte le sere infatti almeno le telecamere li posso guardare ma infatti è la stessa cosa ma ragazzi ma uno che va allora io dico questo questa è una cosa che dovete mettervi in testa ma proprio stamparvela a fuoco se uno continua a fare la vita da single nel momento in cui è fidanzato perché ti fidanzi? vuol dire che quella coppia finirà a breve perché non può essere tu devi creare una sorta di simbiosi sana sana non malata sana in cui tu e la donna con cui stai o viceversa costruite una vita insieme e create passioni insieme create momenti di vita insieme non esiste che cioè le cose si fanno insieme non esiste che prendete uno va ah quest'anno dove vai vado in vacanza con le amiche io l'altra volta ascoltavo due ragazzi che si sono appena sposati non esiste no no questa mi si gira da me e dice no no io ho bisogno dei miei spazi devo farmi le mie vacanze ma cosa vuol dire? con le amiche i pizza amiconosci sì anche io sento diverse persone che dicono queste cose ma dai non assento cioè io in vacanza ci vado con la mia fidanzata io ho amiche che fanno una settimana con le amiche e una settimana con il fidanzato sì sì non puoi combaciare secondo me no io non sono contro queste cose se no me le sto da sola anche io poi il caffè l'aperitivo la pizza il momento anche un weekend mi dirai in spa sai quelle cose un po' ci sta se il complanno di un'amica si ti fai weekend ma non che dici guarda amore io questo weekend sono le mie amiche ma perché? ma perché? allora chiedo se c'è qualcuno in onda io voglio fidanzarmi e per me lui può andare in vacanza amico può andare dove vuole io vado dove voglio ne trovi mille non dobbiamo neanche dire dei commenti adesso lo fanno scendere voglio un fidanzato che una settimana poi va con i suoi amici io vado con le mie amiche poi una settimana voglio una compagnia voglio un fidanzato no 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 che non deve essere fidale lavorare una settimana poi vai in chiesa a pregare esatto però luci una cosa esiste dai se vogliono candidarsi fidati che esiste se vogliono candidarsi devono comprare i nostri corsi perché tu non esci poco ma sicuro ma no prima devono fare il test psicoattitudinale psicoattitudinale perché almeno se seguono sei sicura che non ti tradiscano hai capito perché hanno i valori comunque è vero questo pubblico qui è un pubblico di ragazzi che comunque sono ancora con i valori antichi perché se uno vuole solo giacere con tante donne ogni sera segue altre persone segue altre persone sicuramente non segue me fa corona è una roba di stile corona cioè stile un po' più libertino un po' più grezzo un po' più malessere un po' più malessere no noi costruiamo relazioni infatti i nostri i nostri ragazzi hanno l'obiettivo proprio di costruire relazioni e sono certo anzi ditemelo nei commenti che questo tipo di relazioni tipo alla temptation island non sono quelle che loro vorrebbero non sono sane non sono sane perché ragazzi una coppia a prescindere dalle idee che può avere luci però che comunque ora lei scherza no no non sto scherzando enfatizza enfatizza però comunque cioè i valori di luci sono saldi nel senso non è una pazza che dice no voglio che questo sta via ma no dico che la libertà ci deve essere il rispetto pure però sì sì io sono di un altro avviso però nel senso mancano sempre ci sono sempre i valori no alla base di questo ragionamento che fai certo è capito è quello guarda che te la devi vivere la persona se tu non ti vedi per un po' di tempo e prendi altri interessi perdi interesse anche per lui sì è ricarica è ricarica l'interesse della coppia ti devi vedere più ci sta insieme più è più sale il tutto se è quello giusto se è quello sbagliato no ovviamente almeno penso così no no sono d'accordo sono d'accordo più sta insieme più si crea intimità quindi infatti quando devi dimenticare una persona cerchi di allontanarla di non vederlo così piano piano c'è mai successo che se non lo vedi per tanto tempo non te lo togli dalla testa è sempre solo una persona però comunque ormai però ormai l'ha superata quindi vuol dire che non è detto che se una persona non la vedi non la senti tutti i giorni te la togli dalla testa no perché se la pensi se la pensi vuol dire che se ancora la ricarichi lo stesso nel programma appunto quindi ci ricarichiamo col pensiero però se non la vedi non la pensi beh ma il pensiero ci deve essere sempre anche se sei amico però se la vedi è peggio capito quindi ah no tu dici col compagno sì scusa non ti seguivo quindi ricapitolando per arrivare al punto di questo podcast che è stato davvero complicato e complesso non andate a tentation island non andate a tentation island è la prima cosa se vi amate non andate ecco un'ultima domanda molto molto interessante quindi mi confermate che stare con una cioè perché gli uomini cosa fanno hanno questa paura all'inizio ah non voglio passare troppo tempo con lei perché se no pensa che sono ce l'ho anch'io ce l'ho anch'io appiccicoso se pensa che la voglio braccare poi si annoia se passo tanto tempo con lei voi cosa ne pensate di questa cosa io all'inizio sono uguale sono molto l'avevo già detto io all'inizio il rapporto sono piano piano cioè anche io perché penso di essere troppo invadente però vorresti sì se io ho interesse con la persona sì sì però no glielo faccio vedere non glielo dico neanche perché ho pure di essere troppo invadente quindi mettere troppa ansia sì io ho uguale cioè come lei praticamente quindi state fate vedere pensate quante sono macchiavelliche così vediamo se è l'unica l'interesse voglio stare con te voglio stare con te però non stare con cioè non voglio non te lo dico è un sono interessata a te non lo vedi quanto ti evito perché se io faccio vedere troppo interesse oppure che poi dice a questa sono interessata a te non lo vedi quanto ti evito grazie io voglio chiudere così io voglio chiudere così con la frase di Lucia Lucia Luciano Alejandra Lucia Lucia Luciano Alejandra Luce 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 come si dice allora dice io me la ripeti cara io sono interessata a te non vedi non lo vedi quanto ti sto lontano quanto ti evito grazie grazie like iscrivetevi luce 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 luce